Sta per partire l'intervento per la realizzazione della casa di comunità Spoc nel comune di Montignoso, progetto che prevede la demolizione dell'attuale struttura e dei fabbricati limitrofi di proprietà del comune per realizzare un nuovo edificio di 1700 metri quadri che risponda alle esigenze del territorio. È la prima casa di comunità che parte nel territorio della provincia di Massa Carrara e anche in Toscana tra le prime, quindi quel seme che noi abbiamo piantato qualche anno fa alla fine oggi ha dato i frutti. L'intervento complessivo ammonta a 4 milioni 170 mila euro, di cui 2 milioni 950 mila sono i fondi finanziati con il PNRR, 270 mila sono invece i fondi statali opere indifferibili e 950 mila sono i fondi aziendali. Qui si costruisce un pezzetto della strategia più complessiva che vuole organizzare un nuovo modello di assistenza territoriale particolarmente dedicato alla presa in cura delle persone anziane che hanno problemi di cronicità o che hanno problemi di fragilità. L'avvio dei lavori è previsto nelle prossime settimane, mentre la loro conclusione sarà a fine del 2025. Quindi ci sarà l'integrazione totale tra gli specialisti, i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per una presa in carico multiprofessionale e multidisciplinare che è una appunto dei must della riforma del territorio.